Roby come sempre tu sei in prima linea per la città. Hai visto? Guarda qua, cose mai viste, cose mai viste. Arriva la festa. Guarda Silvia, è arrivata Silvia col suo nessuno. E comincia la festa? Eh certo, è arrivato direttamente con... Con la limousine. Una limousine. E praticamente sono arrivati per salvaguardare anche la patente, no? Eh certo. Perché hanno fatto un compleanno, noi ci parliamo sopra, ha fatto un compleanno e ha portato questi ragazzi, li ha portati in discoteca, adesso ci berranno qualche gingerino. E poi andranno a ballare. E poi andranno a ballare tranquillamente senza perdere la patente. Giusto. Questa è una bella cosa, cosa dici Silvia? Ci vuole una guida intelligente. E guarda che macchinetta, Silvia, guarda. Eh l'auto giusta per me è questa Roby. È vero, tu puoi andare con quel nessuno famoso, no? Bravo. Nessuno si chiama. Bravo, ottima idea. Eccolo là. Aspetto l'invito allora. Allora partiamo immediatamente col famoso nessuno e andiamo direttamente in questa bellissima discoteca e andiamo a divertirci. Io filmo e tu col tuo nessuno balli in un modo pazzesco. Assolutamente. Poi Udine che è la città del divertimento. Eccolo là. Noi non possiamo mancare. Guarda quanta bella gente Roby. Guarda, guarda, guarda. In questa discoteca ci sei mai venuta? Assolutamente. Ci sei venuta? Decine di volte. Ti piace moltissimo? Moltissimo. È una bella discoteca. Bella musica, bell'ambiente. Eh, belle acconciature naturalmente. Eh sì. Dopo vedremo un attimo un po' il tutto. Intanto andiamo a vederci questa grande festa con queste belle ragazzine e con questi bei giovanotti della tua età, è vero o no? Ci sono gente anche più grande o no? Cosa dici tu? Alcune volte sì, dipende dalle serate. Dipende dalle serate. Adesso noi faremo un bel saluto anche al grande Yo-Yo. Il nostro DJ, il mitico DJ. Lui è un vocalista, cara. Ecco, senti vicino sempre il famoso microfono. Perché so che tu lo vuoi sventolare addosso a qualcuno, no? Però senti vicino. Allora, adesso andiamo direttamente. Andiamo a ascoltare un po' di musica. Guarda, questo è Yo-Yo. Guarda. Salutiamo anche il DJ Rossetti. Eccolo là. Senti che musichetta, senti. Sì. Silvia, qua non si poteva neanche muovere. È pieno, è sempre pieno. Un gran divertimento, tutti i weekend. Bello, no? Cosa dici? Molto, molto. Bene, bene, bene. Allora andiamo avanti. E andiamo a ascoltare altra musica. Guardalo lì, guardalo lì. Andiamo tutti insieme. Molto semplice. Molto semplice. I giovani si scatenano, Roby. Eh certo, certo. I giovani naturalmente si scatenano in un modo pattesco. Vai con la festa. Ascolta, ascolta la festa. Guarda qua, con i telefonini, come si fa Silvia. People rising. Eccolo lì. Una mano al cielo, una mano, una mano. Io ho scritto cose mai viste, cosa dici tu? Perfetto, titolo perfetto. Eh, cosa dici? Con la limousine e con tutto questo... Una scenografia eccezionale. Eh, hai visto? Guarda, guarda, guarda. Vai, andiamo con la musica. Attenzione, però vi devo ricordare che tra poco ha anche la discoteca Joy. Joy di Mo Falcone, Staranzano, Bistrigna. Riprenderà le sue serate. Ci saranno queste serate veramente mega galattiche. Grandissimi ospiti. Eh, certo, ci saremmo anche noi. Gorizia TV ci sarà puntualmente per queste belle feste, vero o no? Sicuramente. Saremmo presenti on demand, così potrete vederci sul sito, sulla TV, ovunque. Ecco, potete vedere tutto questo su Gorizia TV. Ecco le quali tre dell'Apocalisse. Guarda che si appannava, perfino la telecamera. E' tanto caldo che c'era, eh? E' tanta gente che c'era, eh? Gitta. Gran movimento. Ecco, vedi? Quando ti dico che c'era la nebbia, ti andava bene, no? Bene, ti va bene? Eh, certo, ci mancherebbe altro. Cappelli sparati. Guarda che acconciature, Roby. Ecco i capelli sparati dalle più brave acconciature che abbiamo mostrato. Guarda questa, Roby. Ecco. Che bel colore di capelli. Sì, guarda quanti capelli. Saluto la signora. La longheira, un bel taglio la longheira. Eccolo lì, guarda, guarda. Che roba. Questa riccia. Eh, andiamo avanti per la musica. Eccolo qua. Mi sa che Yoyo lo canteremo a Sanremo. A presentare Sanremo. Ma certo. A cantare, guarda come che canta. Guarda. Eccolo lì. Il DJ Rossetti. La presenta fissa, hai tutte le serate udinesi. Eh, l'hai visto tu, tantissime. Tantissime. Sai che io sono un abitué delle discoteche, Roby. Eccolo là. Ma tu cosa sei sempre? Io sono sempre in prima linea, un abitué. Ma sempre single. Certo. No. Chi vuole si faccia avanti. Eccolo là. Vai con nessuno, non ci faccia avanti. Giulio, anche. Anche. Poi? Nessuno. Ecco lì. Grazie, mi batte la mano. Ma io ci avevamo fatto un servizio bellissimo. Eccolo la modella. Guarda che modella. Guarda che roba. Andiamo avanti con la musica. Adesso siamo quasi a fare la conclusione. E andremo in un'altra festa mega galattica. Amici, attenzione. Eccoli lì. Facciamo un bel saluto. A questa discoteca. Siamo a Udine. E all'uomo direttamente dalla caciera. Da Rassidia. Perché lì c'è la grana. Eh sì, gli introiti. E all'uomo direttamente dalla caciera.